Salve a tutti! In questo video vediamo come realizzare un dimmer per strisce LED RGB utilizzando Arduino. Come sempre si tratta di un semplice esperimento didattico quindi lo scopo è solo quello di illustrare il principio di funzionamento. Alcuni concetti li avevo già esposti in un altro video sulle strisce LED bianche e se vi interessa vi lascio qua il link potete dargli un'occhiata. Buona visione! Per questo progetto mi serviva una striscia LED RGB. Purtroppo ormai è diventato molto difficile trovarla in vendita separatamente. In genere si trovano solo dei kit completi che comprendono alimentatore e controller di vario tipo. Ho preso uno dei più economici vedrò in seguito di utilizzarlo in qualche modo. Andiamo a vedere cosa contiene. Questo è il controller. È uno scatolotto tipo quelli delle luci dell'albero di Natale. Ha due codini che escono. Uno dovrebbe essere il connettore per la striscia LED e l'altro è il ricevitore a infrarossi. E dietro c'è poi il connettore per l'alimentazione a 12V. Questo è il telecomando. si possono accendere e spegnere i vari colori sia singolarmente che in combinazioni predefinite. e qua c'è l'alimentatore. Con il suo cordone d'alimentazione lo mettiamo da parte. È un alimentatore da 12V 5A. Questo magari torna comodo anche per altri progetti. Ci sono poi alcune clip adesive per fissare la striscia ai mobili o al muro. E per finire l'unica cosa che mi interessa sia la striscia vera e propria. Dovrebbero essere 5 metri e anche già il connettore intestato quindi non sarà neanche necessario fare saldature. Bene procediamo quindi con la realizzazione. Per prima cosa vediamo come funzionano queste strisce RGB. Come quelle bianche anche le strip RGB sono composte da segmenti costituiti ciascuno da tre LED. In questo caso però ognuno dei tre LED contiene all'interno tre chip. Uno rosso, uno verde e uno blu. In pratica dunque è come se in ogni segmento ci fossero tre serie di LED. In serie a ciascun ramo cioè a ciascun colore c'è poi una resistenza di limitazione. Questo perché essendo la striscia alimentata con una tensione costante serve un meccanismo per limitare la corrente nei LED. Ora vado a fare qualche misurazione per determinare l'assorbimento di corrente. Per farlo vado ad alimentare i singoli colori e verifico la caduta di tensione sulle resistenze corrispondenti. Inizio dal rosso e misuro la caduta di tensione che in questo caso è di 5,17 volt. Questa resistenza è da 470 ohm per cui la corrente del ramo rosso sarà di circa 11 miliampere. Passo poi ad alimentare il blu e misuro la tensione sull'altra resistenza. Qua abbiamo 2,67 volt. In questo caso la resistenza è da 240 ohm quindi anche per il blu l'assorbimento sarà di circa 11 miliampere. Per finire alimento il verde e vado a misurare la tensione sull'ultima resistenza. Qua abbiamo 2,92. Anche in questo caso la resistenza è da 240 ohm per cui la corrente in questo caso sarà leggermente più alta ossia di circa 12 miliampere. In totale quindi l'assorbimento per ogni singolo segmento di tre led con tutti i colori accesi sarà all'incirca di 34-35 miliampere. Dal momento che in un metro ci sono 30 led cioè 10 segmenti ogni metro di striscia assorbirà all'incirca 350 miliampere. Vediamo adesso lo schema elettronico. Partendo da destra abbiamo l'alimentatore che andrà ad alimentare sia la striscia led che l'arduino attraverso i piedini VIN e GND. Abbiamo poi un encoder rotativo ed un pulsante collegati ai piedini A0, A1 e A2 e un display OLED collegato ai piedini A4 e A5. Per pilotare i led ho utilizzato dei MOSFET a canale N di tipo BS170. Questi MOSFET supportano una corrente di circa 500 miliampere quindi vanno bene per questo esperimento in quanto utilizzerò solo uno spezzone di striscia. Ovviamente per pilotare spezzoni più lunghi occorrerà utilizzare MOSFET in grado di erogare più corrente. I gate dei MOSFET sono pilotati tramite i piedini D9, D10 e D11 che sono piedini in grado di fornire in uscita un segnale di tipo PWM. Vediamo adesso come collegare i vari elementi. Partiamo dall'alimentazione che va collegata ai due rail positivo e negativo della breadboard. Da qui si passa poi ad alimentare l'arduino tramite i piedini VIN e GND. Il piedino centrale dell'encoder va collegato a massa mentre gli altri due andranno ai terminali A0 e A2. Il pulsante invece va collegato sempre con un piedino a massa e con l'altro al terminale A1. Il display va alimentato tramite il terminale 5V dell'arduino attenzione a non utilizzare i 12 volt se non volete distruggerlo. Le linee SCL ed SDA andranno invece ai terminali A4 e A5. I gate dei MOSFET come abbiamo visto sono pilotati dai terminali D9, D10 e D11 mentre i source andranno a massa. E per finire la striscia LED va poi collegata col positivo ai 12 volt e coi terminali RGB ai drain dei rispettivi MOSFET. E qua vediamo tutti i collegamenti al completo. Bene ora procedo con l'assemblaggio. Come vedrete ho utilizzato una disposizione leggermente diversa rispetto al disegno. Lì avevo messo i componenti in modo che risultassero chiare le connessioni. In realtà ho cercato di fare stare tutti i gli elementi sulla breadboard in modo da avere meno cavetti volanti possibile. Le connessioni sono comunque corrispondenti con lo schema e il disegno che vi ho mostrato prima. Qua finisco gli ultimi collegamenti ai MOSFET. Ecco qua gli ultimi cavetti e la breadboard è pronta. per il funzionamento del circuito ho realizzato un semplice sketch che potete scaricare all'indirizzo in sovrimpressione. Ovviamente si tratta di un programma abbastanza semplice che potete usare come spunto di partenza modificandolo secondo le vostre esigenze. Per la compilazione servono due librerie U8G2 per la gestione del display e Rotary Encoder. Se non le avete ancora installate basta andare in Sketch, Includi libreria, Gestione librerie, fare una ricerca e installarle direttamente da qua. Ora imposto il modello di Arduino, in questo caso Arduino Nano e la porta seriale corretta. E procedo alla compilazione al caricamento. Ecco il firmware è stato caricato, ora passo al collaudo. Collego la striscia ai terminali d'uscita, la metto qua spero che poi si veda qualcosa nella ripresa e collego anche l'alimentazione a 12 volt. Vado ad accendere l'alimentatore. Ed ecco il circuito in funzione. Tramite l'encoder si possono regolare i vari colori. Si utilizza il pulsante per passare dal rosso al verde al blu. Ovviamente i colori possono essere regolati uno a uno ma anche miscelati assieme. Vediamo qua che mescolando il rosso con il verde si ottengono varie sfumature che vanno dall'arancione al giallo. Utilizzando invece rosso e blu si ottengono le varie tonalità di viola. Proviamo ora ad accendere tutto al 100%. Dovrebbe risultare una luce bianca. Ecco in realtà è molto tendente al blu. Secondo me il led rosso aveva bisogno di un un pochino più di corrente per avere una luce paragonabile agli altri due colori. Bene per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile o anche in caso contrario. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!